Ciao ragazzi, mi è arrivato un nuovo pacco questa mattina e sono davvero in trepidazione perché lo stavo aspettando da tanto tempo. Ovviamente il pacco non è arrivato in queste condizioni, ma ho semplicemente schippato la parte in cui ho ritagliato, almeno tanto questa parte a voi non interessa. Diciamo che collezionando oggetti sealed in italiano è molto difficile riuscire nel 2024 ad aggiungere qualche nuovo pezzo, ma in questo caso dovrei esserci riuscito. Per cui adesso stacchiamo questo ultimo lembo e andiamo a estrarre. Innanzitutto vediamo che c'è un cartone misterioso dentro un altro cartone con questo adesivo che è molto interessante. Per cui in realtà insieme agli oggetti potrebbe esserci anche la confezione che è ancora ancora più interessante. e voglio estrarli il più lentamente possibile e il più delicatamente possibile. Prima fare resistenza dall'altra parte, sta venendo fuori questo piccolo box dalle dimensioni molto interessanti. Sì, è molto interessante. Safety tape. Probabilmente al contrario. Ragazzi, allora intanto guardate qua. Codice identificativo 885 quantità 24 hit pokemon neo 3 booster blister. Sapete cosa vuol dire made in Belgium, tra l'altro? Neo 3 si tratta di neo revelation. Per cui andiamo ad aprire la scatola e qui spero che siano arrivati in condizioni perfette. Ci dovrebbero essere gli ultimi due blister che mi mancano della serie neo revelation. Vediamo, abbiamo un Raikou e adesso andiamo ad aprirlo. Anzi, in realtà è stato inserito, per cui andiamo semplicemente a estrarlo senza farlo toccare con lo scotch, magari. Ok, sarebbe l'ideale. Possiamo farlo da sotto, in realtà. Ok. Voilà. Blister neo revelation in italiano. Condizione della plastica perfetta. No, qua era la piega del... del pacchetto. Condizione del blister molto buona, molto buona, ragazzi. Andiamo a vedere dietro. Bellissimo, sono stupendi blister neo revelation. Lo mettiamo un attimo da parte e andiamo a fare la stessa identica cosa. Che bello che ho la scatola, ragazzi. Con lentei. Infatti avete visto l'altro video che addirittura avevo doppio saikun e misdrebus. E avrei messo un post nei vari gruppi dicendo ragazzi aiutatemi a scambiare. Invece fortunatamente sono riuscito a trovarli. Anche qui, retro, mi sembra perfetto. Mint. Ecco qua Entei. Eccolo qua. Guardate, guardate che roba. È davvero, davvero perfetto. In ogni dettaglio. E in più, non vi ho fatto vedere, ma in un altro box, sempre arrivato stamattina, mi è arrivato anche un altro doppio. Ovvero questo blister di Satu. Per cui, breve recapino. Lui leggermente con una piega sul davanti, però preso a un prezzo assolutamente eccellente. I blister sono i miei preferiti. Per cui abbiamo, in questo arrivo di oggi, blister Satu Neodiscovery in italiano. Nello scorso video lo chiamo Neodiscovery anche questo, sbaglio. E i due Neorevelation che mi sono sempre mancati finora. Ovvero Raikou Entei. Grazie per aver visto questo video. Vi faccio anche vedere un'ultima volta la scatola. Perché, raga, la scatola Neorevelation in italiano di blister è una roba pazzesca. Mi spiace solo che non ci sia più il tape ufficiale della Wizard of the Coast. E guardate cosa riporta. Dicembre, io penso che sia dicembre 2001. L'8782. Quindi anche questo un pezzo davvero, davvero incredibile. Tra l'altro guardate il codice identificativo. 885-84-1030 che 885-84 è lo stesso che vedete sotto qui. Per cui è proprio il loro. Grazie mille per la visione e, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Spero di fare altri video così fighi con altra roba fighissima. Ciao a tutti!